Gli inglesi scapparono dalla valle della Loira. Mentre si ritiravano verso nord, l'avanguardia francese li inseguiva. Colti alla sprofesta, i francesi subirono un attacco a sorpresa dalla retroguardia inglese. Amand! Amand, compagnon! Gli inglesi copre fondre! Incontinent! Impertigiate vostre corregge, compagnon! Andreia di fronte a moire! Amand, compagnon! Gli inglesi copriamo! Per vostre servizio! Per vostre servizio! Per vostre servizio! Per vostre servizio! Incontinent! Per vostre servizio! Un distaccamento di arciere inglesi bloccò la strada con delle palizzate. Una misura molto efficace contro la cavalleria. L'avanguardia francese doveva liberare la strada prima di poter chiamare rinforzi. Avanz! Incontinent! Seacompost for dreist! Per vostre servizio! Per vostre servizio! Per vostre servizio! Vostre courage, compagnoli. 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 Grazie. 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 Incontinent. Retraignats posamway. Chertes. Apertisez vostro courage, compagnon. For vostro servizio. Sentendo il grido di guerra degli inglesi in arrivo dal villaggio di San Sigmund, i francesi individuarono la posizione del nemico. Compagnon, resta per la besoine. Grazie. 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 ... Porte il vostro servizio. Facci les commandements, attestate vos. Attendez les commandements. Passons, passons. Passons, passons. Allaïsus, I must remain awake in the troclamata axis. Chascunes, aides sa place. Aides-vous vers notre porte, Genstarts. Un jet smetz vos habillements avant au vele stienne. Aides-y. 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 Attendez les commandements. Oui, oui. Aides-y. Donnez-moi vos habits. Je suis votre cerveux. Aides-y. 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 A comprendre a l'usановит... Bataille ! Passe à la cu input de sa travelled... Bataille ! Un jet Aides-y. Male grave. H ooooh ! Sì Alla resta me, jury da vostre volets. Ad ces mes vos, si juste. Apertiset vostre corruge, compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 No! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione